Un'altra sconfitta, la seconda consecutiva, anche se ben diversa da quella di Roma in tantissime cose, tranne che in una statistica, i gol subiti. Le tre reti incassate contro l'Inter di Simone Inzaghi portano a 10 il conto complessivo dei gol subiti dall'Udinese e a 8 quello parziale nelle ultime tre giornate. Fanno male i gol presi, non tanto nel numero quanto nella banalità degli errori dei singoli, che condizionano poi anche complessivi movimenti di reparto. Sbagliano un po' tutti là dietro, con Jacabiolli in particolare che vive un momento di difficoltà imprevedibile dopo un inizio da Leone in cui fioccavano i sette in pagella. Ci può stare, visto anche il tenore degli ultimi due avversari, ma bisogna iniziare a pensare ai rimedi per situazioni del genere in un reparto, quello arretrato, perseguitato da infortuni e defezioni, un po' com'era quello offensivo lo scorso anno. Difficile trovare un'alchimia vincente, ma Runecci e il suo staff si stanno lavorando concretamente. Mister che ha ribadito a più riprese come ci siano due facce della medaglia della gara contro l'Inter. Verissimo perché è inoppugnabile sostenere che l'Udinese è rimasta incarreggiata soprattutto grazie agli errori sotto porta di Lautaro, sbloccato poi da un rimpallo fortuito con Biglioli in occasione del 2-1, ma è altrettanto realistico dire che la squadra ha avuto grande spirito e ha provato sempre a rimanere in gara, rientrandoci due volte con i gol di Cabasele, bellissima azione, e Lucca, rintoso nel cercare di scaldare la curva nord. Troppo forti però le distrazioni che hanno portato a subire gol nei momenti peggiori del match. A freddo con Frattesi, a fine primo tempo e a inizio ripresa da Lautaro. Non è un alibi, ma l'Udinese è stata anche zaborrata da un arbitro un po' agitato nella gestione del recupero, ma soprattutto distratto in occasione del clamoroso fallo su Toven poco prima del raddoppio nerazzurro. Adesso ovviamente non era il miglior arbitro che abbiamo avuto, ma non è un problema, dobbiamo essere adulti e dobbiamo fare con questo e non usare l'arbitro come un'escusa. Non parlerà però di certo di queste cose, Runia e Cispogliatoio, citando Cabasele, ma di cosa va migliorato in vista di sabato quando l'Udinese tornerà a essere la squadra favorita contro il Lecce dopo due partite complicate. A Udinese arriva per la prima volta da ex Luca Gotti con il suo Lecce in difficoltà, ma con la panchina solidissima, almeno stando alle parole del presidente Sticchi Damiani, non sarà di certo uno snodo decisivo, certo, ma un match che dirà molto della vera natura della squadra friulana.